Ciao a tutti, oggi parliamo dell'idrocefalo nel cane e raramente nel gatto, che è una patologia fondamentalmente correlata a un mancato riassorbimento del liquido cefalo-rachidiano attraverso i biliarachnoidei e quindi avviene questa dilatazione del sistema ventricolare cerebrale che poi chiaramente crea una serie di problemi neurologici nei nostri cani. Prima di iniziare questo video vi ricordo che se siete interessati a questi argomenti, a saperne un po' di più delle patologie del cane e del gatto, iscrivetevi a questo canale, io cerco di spiegarvele in maniera più semplice chiaramente per cercare di darvi un'informazione su magari una patologia che viene diagnosticata al vostro cane o al vostro gatto. Inoltre se volete supportare il progetto ricordate di mettere un bel mi piace al video. Partiamo subito quindi con l'idrocefalo, abbiamo spiegato che c'è questo mancato riassorbimento del liquido cefalo-rachidiano, quindi una dilatazione ventricolare del sistema ventricolare cerebrale che chiaramente poi causa una serie di problematiche neurologiche nei nostri cani. Fondamentalmente può essere sia acquisita che congenita, acquisita tendenzialmente in riferimento a infiammazioni, emorragie, neoplasie, ma la maggior parte dei casi è congenita e colpisce fondamentalmente delle razze, alcune razze, soprattutto le razze toy, come per esempio il maltese, i yorkshire terrieri, il lasapso, il chihuahua, per esempio colpisce anche il boston terrieri, il balbore nano, il volpino di pomerania, il pecchinese, può colpire anche il chouchou, colpisce fondamentalmente una serie di razze di piccola taglia, fondamentalmente diciamo, può colpire anche i gatti. Generalmente cosa abbiamo, cosa vediamo in questi cuccioli? Hanno questa testa ingrossata a causa chiaramente dell'aumento del volume del liquido cefalo-rachidiano e chiaramente possono avere le fontanelle aperte e le strutture chiaraniche aperte palpabili. Bisogna ricordare che non tutti i cani con le fontanelle aperte ovviamente hanno l'idrocefalo, nel senso che soprattutto in queste razze può capitare che nei primi mesi abbiano ancora le fontanelle aperte, quindi le fontanelle aperte non ovviamente sono segno di idrocefalo, tendenzialmente quando abbiamo idrocefali possiamo avere chiaramente questo tipo di fontanella aperta. Fondamentalmente nella maggior parte dei casi i segni clinici si manifestano tardivamente, non immediatamente, generalmente fino ai due anni di età può capitare di non vedere segni clinici riferiti all'idrocefalo. Cosa possiamo vedere fondamentalmente in un cane che ha idrocefalo? Possiamo vedere una serie di problematiche neurologiche, per esempio possiamo avere un apprendimento più lento, un cane che ha una difficoltà diciamo all'addistramento, può avere un abbattimento del sensore, alterazioni comportamentali, rotazione della testa, nystagmo, reazioni posturali ritardate, tetraparesi, può avere il strabismo ventrolaterale e fondamentalmente possono esserci anche, che è la cosa diciamo più grave, poi fondamentalmente le convulsioni, quindi delle crisi epilettiche che fondamentalmente possono chiaramente creare grossissimi problemi al nostro cucciolo, al nostro cane. I deficit possono progredire nel tempo, ma possono anche migliorare poi nei primi due anni di età. La diagnosi fondamentalmente di questa patologia avviene allora in una fase iniziale, se abbiamo ancora le fontanelle aperte, tramite anche l'ecografia, altrimenti tramite attacca e risonanza. La terapia fondamentalmente serve fondamentalmente di cercare di ridurre la pressione introcranica, quando abbiamo troppo liquido cefalorachidiano e quindi soprattutto nei giovani abbiamo la possibilità di ridurre un attimo la pressione direttamente, oppure si utilizzano chiaramente dei farmaci per cercare di ridurre fondamentalmente la pressione intracranica e la produzione di liquido cefalorachidiano. Generalmente, se ci sono delle crisi epilettiche, la prognosi è tendenzialmente in fausta e anche se ci sono gravi segni neurologici, si è cercato chirurgicamente di creare un sistema diciamo uno shunt che permette di scaricare fondamentalmente il liquido cefalorachidiano in eccesso nel sistema sistemico e sembrerebbe funzionare nel 50 presenti i casi, quindi è una chirurgia ovviamente aggressiva, però fondamentalmente viene potenzialmente effettuata per ridurre chiaramente il liquido cefalorachidiano che poi ovviamente crea questa dilatazione e quindi calcolate sempre che il nostro encefalo è all'interno di una scatola cranica, quindi non ha spazio di allargarsi e quindi un'emoragia, un tumore e in questo caso del liquido comunque creano delle compressioni e poi chiaramente dei danni neurologici, quindi il grosso problema delle patologie intracraniche è questo, che non c'è spazio e quindi creano chiaramente dei danni da compressione. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima e un saluto a tutti!